Questo video riguarda i migliori tre carrello per la spesa. Il vincitore della qualità è il Jimmy New Twin 4. Acquista uno prodotto Jimmy tra quelli partecipanti e vinci ogni giorno uno Plaid Somma in pura lana merino. Questo carrello porta spesa, dal design italiano contemporaneo, è dotato di ruote anteriori piruettanti a 360 gradi e sacca in poliestere con zip frontale su tutta la lunghezza per facilitare e velocizzare lo scarico degli acquisti. Nonostante il formato compatto da 39x52x95 cm, questo carrello porta spesa da spingere o trainare offre una capienza di 50L di spazio. Ideale sia per piccoli che per grandi percorsi di shopping. Il sistema EasyClick facilita la rimozione della sacca e rende il riordino degli oggetti personali e della spesa veloce e senza problemi. Gli oggetti personali di valore possono essere riposti nella tasca interna, mentre gli oggetti da tenere a portata di mano in qualsiasi momento possono essere inseriti nella tasca esterna sul lato della sacca. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il VAUNOT carrello. Grazie al suo sistema a sei ruote, puoi facilmente salire o scendere le scale senza il minimo sforzo. Il carrello può ospitare buche, fessure o marciapiedi alti. Il carrello della spesa è leggero grazie alla sua struttura in alluminio che offre una vita utile più lunga contro le intemperie. Inoltre, la comoda maniglia in schiuma ti permetterà di spostare comodamente il carrello. Facile da riporre con un telaio pieghevole in alluminio e occupa pochissimo spazio quando è chiuso. Oltre ad essere un carrello della spesa, può essere utilizzato come carriola a mano che può sopportare un carico massimo di 40 kg di scatole di cartone impilate, scatole o altri grazie alla sua robusta cornice in alluminio. La borsa impermeabile da 45 litri è realizzata in resistente tessuto Oxford. Inoltre è sfoderabile e lavabile. La fasciatura ultralarga e il velcro rendono difficile lo spostamento della borsa. Il vincitore del premio è il Colombo Carrello Porta Spesa. Il carrello Smart è il modello perfetto per chi cerca un prodotto pratico ma allo stesso tempo compatto ed elegante. Il carrello consente di trasportare fino a 25 kg di spesa. La struttura è in acciaio verniciato e rende il carrello Smart molto robusto, ma allo stesso tempo è molto leggero 2,3 kg quindi facile da sollevare. Il carrello ha una capienza da 40 L consentendo di trasportare in una sola volta una spesa media. La sacca è in poliestere riciclato impermeabile dotata di fettucce decorative. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.